Francesco Macri è il presidente esecutivo di Estra, il nuovo consiglio di amministrazione eletto dall'assemblea dei soci. Ha anche nominato Nicola Ciolini, amministratore delegato e Alberto Irace, direttore generale. Estra si è giudicata anche quest'anno il premio Industria Felix, assegnato alle 74 società finanziariamente più affidabili tra Abruzzo, Lazio, Marche, Sardegna, Toscana e Umbria. Anche Estra sponsorizza Estate in Fortezza 2023, il festival organizzato dalla Fondazione Guido d'Arezzo e dal Comune di Arezzo che fino al 24 settembre presenta un cartellone ricco di eventi. Estra Clima sarà il partner tecnologico e strategico della nascente comunità energetica rinnovabile di Calenzano. A settembre nel Comune Fiorentino l'incontro pubblico con l'avvio della raccolta delle adesioni.